lei ci ha messo il nastro isolante perché c'è la luce roscia ma gli fa male dal cellulare manneggia il bambino lei ve lo sto nastro isolante ma che c'ha qui coglione ma perché ce l'hai messo ma tu guarda il telefono tu no stronzo e viene a vedere il mio e invece abbiamo qui eccolo smanicato seduto che stai aspettando che stai aspettando guarda la televisione e dopo e poi no oggi bisogna andare su un posto quindi tenete gli occhi ben aperti buongiorno eh questo sabato che sa di domenica eh tagliatelle con che le famose tagliatelle mamma mia non vedo l'ora guardate che maestria vai 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 carezzalo come la pelle del cammello vai 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 la pelle del cammello che c'entrava non c'entrava niente però è uguale vai 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 prega 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 e fai tagliatelle sempre sempre eh ci sta sempre anche a te i coglioni ma la grattola eh ma vaffanculo vattene col tuo mamma giudice no no scalzo però no dai scalzo no incredibile sta nevicando guardate come nevica ma nevica meno perché oggi non lo mette da solo eh o no o no ma tu non cambia mai ti sembra rubi i coglioni eh certo